FETENZA FETENZA Beh si abbiamo fatto due missioni Allora abbiamo fatto 4 UGEL STATION E 213 PARKOMS Che non la vogliamo neanche VETER No 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 Mission complete Ehm quindi stiamo facendo la volta portocca No conteniamo portocca Il giorno notturno ce l'hai perchè si vede un cazzo Nooo io sto bene anche senza Ma graficamente vacca roba Ah io non ce l'ho Ah Ehi ehi Preso 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 Posto Eh quanto è uscito uno Dove Ok da terra a terra Quello che parlo accanto Stavo uscendo da Eh come arriva in cui mi diceva che è ammazzato un civile No ma cosa Eh si Ah ma Dio Cristo sono vestiti uguali Dio Cristo questo vero Vabbè rifermo Vabbè no Vabbè appena inizia Aaaaaah Bisogna stare attenti a che sono vestiti uguali qua civili Ehm Terroristico Tento Ah aspetta di qua 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 Eh vabbè ho capito ho detto 4 volte Dio Dito 4 volte drop the gun Cazzo Ah cazzo mi son curato spazio doveva cagare Mi ha ucciso la gamba quello lì Ok sei dietro di me ah quindi ok Che sei dietro di me ah quindi ok Che sei coso non c'era sta porta con me Mi sei consentito qualcosa Ehi crolli Ehi ehi Oh cazzo 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 Ma schiva la testa di un mio Aspetta Ok A terra a terra Cazzo 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 Ma com'è che sei morto? Eh ma vabbè ha preso troverai sul muro No ma questo qua si è girato istantaneamente Ah vabbè io avevo uno di vita vabbè A voi Non ci rende un cazzo di nessuno qua Eh rispettami C'è quello che cambia, 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 cambia Ma è morta, morta Mettà un attimo, usciamo come farle Guardo dietro le scale e ti guardo avanti Cazzo 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 Apri e tiro la flash bang Bruh Cazzo 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 ma se la vera sostanza lo fai dico caro il mio butto in posa l'armo si vedo vedo ma te ti apro la porta dai uno lì tu etta cazzo vazo vazo a tuo dito vazo cazzo mettiamo qua nell'angolino in castigo lo mettiamo qua sinistra non mi fido proprio libero qua aspetta cazzo cazzo ma dai c'è solo un modo c'è solo un modo di entrare aspetta che arrivo, tira una flashbang no, ho fatto coppa coppa ce n'era uno solo no, non c'è nulla qua nessuno per ora aspetta aspetta ma che ci fai la cesta no è una roba baggata per una trappola attento qua del posto dell'altra volta di cristo se ne vi a sparare gasto qua appunto sono vestiti uguali ai terroristi c'è c'è un altro e vedi dove è morto lui quello là si c'è un altro e mi sa che è là sopra flash 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 ah non ci vedo un cazzo ehi ehi cagare cazzo ah mi sa che tu a sparare a media eh vabbè teoricamente no ma cazzo ma cazzo lì hai smirato in una maniera furata ho visto gli detersivi la scatola dei detersivi è venuto distinto fai un mcdump ai detersivi mi sta entola e proprio con la voce convinta aspetta quello là un'arma da fermo non sta a dirglielo che casomai che sparo eh infatti tua mamma bella questo bella asso ehi ehi cagli madonna oh cioè c'ho busto e le gambe entrambe distrutte già adesso e se gli facessi il giro da là? te polano secondo me è meglio ma che entro 3 2 ma si ma sciotta eh vabbè stiglia ma vabbè che rottura del cazzo da davanti si fatto tu si cazzo no cazzo neanche senti io boia ehi dai madonna guarda lì guardo fuori ass qua fuori dato dato ok cazzo 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 boia quanto cazzo frenetti cazzo 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 boia no lui lui da quella finestra lì lui spara attraverso me non mi prende niente va cagare ok dio cristo cioè io sparo i vetri 3000 volte non si spacca a me e lui mi prende mi saldi qua aspetta eh infatti che uno cazzo o ci ha giaceno che ci ha no va bene vabbè cazzo cazzo o cazzo cazzo comune che ci ha inutile cazzo cazzo Stremi, stremi rimedie. Se uno ha un oggetto simile a un'arma, lo coppiamo. Se uno adesso, se uno l'è là, adesso mi sono morto. Eh, comunque. Ho te l'edito. Eh, ho fatto stessa roba, ho tirato la flashbang, su cui lui non ha effetto. Ah, sì, bravo. Cazzo sai vedere le flashbang? Vai, dai, fermo i suini. Ho finito con le portette ad entrare. Hello? Lassù! Cazzo! Puttana, oh, ma... No, ti fa venire l'infarto prima o poi, eh. È morto, guarda. Cazzo, troia, oh. Neanche qua dentro nessuno. Sarà pieno nell'edificio. Il fatto che non ci sia nessuno finora mi sta facendolo un po' cocagagno. Madonna, Dio. Lassù. Troia, oh. Tana è assito in crucolio, veramente. Esco là. C'è uno dentro, guarda. Il prossimo sposto e lo metto in un caso. Esso! Uff. Tiro una flash, casomai. No, aspetta che ho visto la testa. Eh, è il caso. Ok. Un knockout. Aspetta, aspetta. Eh, se ne ho tirato la flash. Tirata, flash. Eh, temer il flash è meglio. Eh, dio, eh. No, perché no? No, no, lì. Tento, 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 no. No. È nel container qua davanti. Ma di andare che da reportarli. Cazzo, duello, duello. È sempre lì dentro. Forca D. È lì? Aspetta, sta fermo. Ah, sì, 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 sì. Eh, sì, sì. Su sto. Allora, c'è fatto. Ho sentito qualcuno qua. Quindi... Eh, che piang. Aspetta, un attimo. Tiriamo di qua. Eh, eh. Eh, cazzo, dove lo, dove? Qua. Cazzo. 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 Tento, no, 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 no. Ehi, ei. Aspetta, aspettate. Ho sentito qualcuno, mi pare c'è un civile. Sì, c'è qua dentro, zi. Ok, è un attimo. Attenzione a non spararci perché qua è un secondo. Bene, aspetta, ne vedo uno qua. Un attimo. Hands up! Stop your knees! Ok, qua dentro c'è qualcuno, l'ho visto da qua. Allora, un attimo, un secondo. Cargo dossier e indietro e fuori da sto edificio qua e in quell'altro. Rescue Person Vintage, non so chi cazzo è. Popo Zero. Arresta tre sospetti e quindi bisogna prenderli vivi. Quindi bisogna prendersi anche un'arma non letale come l'Intazer. Viene alcune delle non letali primarie però. E lì ti devi portare una secondaria per forza perché... Però questo! Questo! Ti immagini che sbaglio, smiro e ti colpisco col taser. Oh porca troia! Ne ho preso uno! Non so se ho preso un civile col taser. Sono andato! Ten... ... 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